Direttore generale, signore e signori, sono molto orgoglioso di poter rivolgere a tutti voi il mio saluto personale dell'Italia intera in un momento storico così difficile, nel quale le nostre vite, le nostre abitudini, il nostro stesso lavoro devono fare i conti con gli effetti del Covid-19. Abbiamo vissuto uno shock senza precedenti, da cui siamo finalmente, faticosamente uscendo, ma non possiamo pensare di ritornare semplicemente allo status quo ante. La pandemia ci ha uniti nel dolore per le gravi perdite umane, nella pesante crisi economica, che è già costata oltre 400 milioni di posti di lavoro nel mondo. Ed è con la stessa unità, con la stessa coesione, che dobbiamo ricercare una strada comune per il rilancio dell'economia. L'Italia è stata uno dei primi paesi colpiti dal coronavirus e ora è pronta a fornire alla comunità internazionale il suo contributo di riflessione sul mondo del lavoro a beneficio delle imprese. Al pari di altri paesi, il governo italiano si è adoperato in seguito alla crisi sanitaria per dare un forte stimolo al rilancio dell'economia, giuggetto a promuovere fino ad oggi interventi d'emergenza del valore di oltre 80 miliardi di euro a favore di cittadini, lavoratori, imprese. Ma sappiamo che per vincere questa sfida dobbiamo produrre uno sforzo collettivo, che l'Italia è pronta a sostenere anche nel ruolo di presidenza del G20, che rivestirà a partire dal prossimo primo dicembre. Una delle lezioni apprese da questa esperienza durissima che ha accomunato i nostri paesi è che dobbiamo recuperare il più profondo significato della dimensione antropologica e culturale del lavoro. Il lavoro non è solo fonte di reddito, non è solo un fattore di produzione. Il lavoro è una delle determinanti della qualità della vita, è uno dei fattori che costruisce il senso stesso della vita, è lo spazio nel quale si sviluppa e in richiamo alla Costituzione italiana è esplicito la personalità umana e attraverso il quale ogni persona realizza se stessa, contribuendo al progresso materiale e spirituale della intera società. E anche e forse soprattutto per questo che dobbiamo tutelarlo. Qualche settimana fa, in linea con l'approccio tripartitico dell'Oil, che vede agire in sintonia governi, lavoratori e datori di lavoro, ho promosso un progetto coraggioso e condiviso per il futuro dell'Italia, dei nostri figli. Si è trattato di un esercizio unico e affascinante. Insieme alle principali forze economiche, sociali e culturali del Paese abbiamo assunto l'impegno a favorire il rilancio dell'economia italiana intorno a tre linee strategiche. Modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione sociale, anche territoriale e non ultima di genere. L'Oil ha infatti indicato come siano le donne a subire maggiori conseguenze socio-economiche della crisi, sia perché maggiormente presenti nei settori più colpiti dalla pandemia, sia perché principali vittime delle possibili distorsioni nella gestione degli spazi di vita e di lavoro causate da una non adeguata normazione dello smart working. Abbiamo quindi lanciato un piano ambizioso che intendiamo iscrivere nel quadro europeo, volto in primo luogo a tutelare il mercato unico, a realizzare gli obiettivi condivisi con i partner dell'Unione Europea, un'Europa che vogliamo più verde, più digitale, più inclusiva. L'Italia c'è. La ripartenza deve dunque necessariamente passare per un lavoro produttivo, liberamente scelto e dignitoso per tutti, secondo lo spirito della dichiarazione del centenario dell'Oil dello scorso anno. Oggi questo impegno è ancora più attuale, per imboccare con maggiore determinazione un nuovo cammino che ponga al centro del benessere dell'individuo e della comunità, promosso in maniera equa e sostenibile in tutte le regioni del mondo e che non lascia indietro nessuno. Grazie, buon lavoro.